buongiorno ragazzi e bentornati sul canale dunque primo video della trilogia su come si montano questi impianti su come tararli ragazzi tante sono diciamo le difficoltà quando voi mi scrivete lorenzo non riesco a capire come si montano impianto come montare i pannelli inverter batterie ragazzi io ovviamente non ho mai fatto una trilogia infatti questo è il primo video della trilogia su come montano l'impianto diciamo così completa perché comunque le informazioni si ragazzi ve le ho date il velo sempre dati che ho sempre aiutato però capisco che ci sono delle cose basi rari che se non si sanno poi ci si trova in questo limbo di ovviamente di incapacità di montare gli impianti poi dopo si sbagliano i montaggi si sbagliano le tarature e ovviamente dopo si va allo sfascio fino anche a rivendere tutti i pezzi abbandonare i progetti ragazzi questo ovviamente io non posso permetterlo lo cerco sempre di aiutare a tutti però capite che siete in tanti io sono da solo e quindi mi sono deciso di fare questa trilogia il primo video lo dedicherò solamente ai pannelli fotovoltaici quindi oggi si parlerà solamente di pannelli fotovoltaici il secondo video si parlerà solamente di inverter ok il terzo video solo sulle batterie cercherò ragazzi di essere il più semplice è ovviamente concreto possibile se ovviamente ci sono difficoltà o magari errori su quello che dico vi prego ovviamente di segnalarlo subito nei commenti o nei miei canali facebook e telegram dedicati dove lascio qua il link in descrizione ok prima di iniziare ragazzi come al solito vi ricordo l'iscrizione al canale cortesemente aiutatemi a crescere perché come vedete faccio video che interessano a tutti 70 per cento di voi guarda costantemente i miei video ma in me ancora non è scritto al canale ragazzi non chiedo soldi non chiedo donazioni non chiedo nulla di tutto questo l'unica cosa che chiede l'iscrizione al canale quindi cortesemente vi prego aiutatemi a crescere in modo che possa fare di questi altri video che interessano a tutti dunque pannelli fotovoltaici primo video cosa sono questi pannelli ragazzi i pannelli fotovoltaici sono delle batterie sono delle batterie le quali tramite ovviamente i fotoni di luce quindi qua già bisogna fare la prima distinzione perché molti sono convinti che questi pannelli funzionano col calore del sole ragazzi assolutamente no il calore nemico per colpa dell'effetto giallo ma invece i fotoni di luce sono amici sono amici di questi pannelli fotovoltaici tramite la luce prodotta dal sole loro trasformano questa luce in energia elettrica non sto qua a farvi il pippone di come la trasforma ovviamente in chimicamente fisicamente vi basti sapere che questi pannelli fotovoltaici servono per trasformare la luce in energia elettrica quindi sono effettivamente delle batterie dei generatori che ovviamente in base alle condizioni ambientali possono dare più o meno energia ok ovviamente la condizione ambientale sfavorevole la più brutta per loro è ovviamente il buio perché appunto lavorando con i fotoni di luce quindi con la luce ovviamente loro senza la luce non funzionano quindi senza la luce loro non producono energia con la luce invece quindi nelle ore diurne ovviamente producono un sacco di energia quindi vanno al massimo delle loro prestazioni ma ovviamente in determinati casi non è così ok tipo quando ci sono le nuvole loro non producono o producono poco o producono il 20 per cento o producono 80 per cento oppure ragazzi quando c'è molto caldo la peggiore delle ipotesi è ovviamente la concomitanza di tante ovviamente situazioni sgradevoli quindi e magari nuvolo caldo magari anche giornate particolarmente ovviamente poco soleggiati a prescindere magari giornate in cui sono addirittura nei periodi invernali dove ovviamente l'inclinazione del sole non è favorevole ragazzi quali sono le giornate più sfavorevoli per i nostri impianti fotovoltaici le giornate invece più favorevoli sono le giornate belle le giornate limpide in piena estate dove ovviamente il sole è a un'inclinazione perfetta per ovviamente illuminare questi pannelli quindi trasformare l'energia fotovoltaica in energia elettrica e ovviamente questa è la situazione ideale che purtroppo purtroppo non è sempre favorevole infatti non è sempre così ragazzi quando non è così purtroppo qua devono intervenire le batterie ed ecco il primo principale motivo delle batterie perché devono esistere perché le batterie appunto servono per superire in questi momenti e ovviamente sgradevoli per i nostri impianti quindi magari quando abbiamo un carico particolarmente elevato ovviamente i pannelli fotovoltaici non riescono a ovviamente superire ad alimentare il carico quindi la differenza dell'energia elettrica viene ovviamente presa dalle batterie ma ripeto le batterie le vediamo in un altro video allora come montare e come progettare e quali ovviamente pannelli prendere ok perché alla fine la prima cosa che bisogna fare è questa rispondere a queste domande quali pannelli prendere allora prima di quali pannelli prendere ok prima di tutto bisogna guardarsi in casa propria ecco perché io sono sempre stato contrario a chi dava previsioni molti altri signori invece davano informazioni basati sul nulla ragazzi questa è la cosa più sbagliata perché se non si sa con chi abbiamo a che fare e con quale progettazione e ovviamente con quale ambiente domestico abbiamo a che fare ragazzi è meglio tacere è meglio non dire niente perché se si fanno previsioni basate sul nulla si confonde solamente le idee a chi si approccia al mondo del fotovoltaico è magari spaventato dai prezzi è ovviamente dal montaggio oppure solamente dal lavoro che c'è dietro allora magari nemmeno si mette lì a fare il l'impianto quando invece ragazzi le previsioni si fanno prima di tutto almeno almeno verificando il luogo di lavoro il posto di il montaggio il domicilio del cliente ecco perché la prima cosa che bisogna verificare ragazzi è il posto ok quindi la superficie di montaggio di questi pannelli perché se non si sa la superficie di montaggio dei pannelli non si può parlare di ovviamente di potenze installabili diverte di batteri non si può parlare di nulla ok perché magari questo povero cristo ha solamente un metro quadro di superficie installabile ed è inutile dirgli a ma almeno medici 3 kilowatt o 6 kilowatt ragazzi è sbagliato ragionare così si spaventa il cliente si spaventa chi ovviamente si vuole approcciare anche col mondo del fai da te e soprattutto ragazzi si danno informazioni errate perché se non sappiamo neanche dove stiamo installando i pannelli e con chi abbiamo a che fare a che serve parlare ok non serve assolutamente a niente quindi la prima cosa che bisogna fare sapere con quale superficie quanto è la superficie installabile ok la superficie installabile ne determina ovviamente il tipo di pannello ok i nuovi pannelli ragazzi normalmente siamo sui due metri venti per un metro e dieci sui 500 600 watt quindi ovviamente ragazzi se già non si hanno queste misure o non si hanno diciamo queste caratteristiche di superficie installabile purtroppo purtroppo bisogna andare su pannelli più piccoli su pannelli da 300 400 watt su pannelli un po' vecchiotti che sono ancora in vendita però ovviamente per questioni ovviamente di dimensioni bisogna andare su quei pannelli quindi già questa cosa ragazzi giusta da dire la cosa che bisogna fare è verificare la superficie verificare le misure di installazione della superficie di installazione e poi comprare i pannelli quanti pannelli ci stanno in questa superficie è ovviamente anche lì ragazzi bisogna verificare la superficie se la superficie esempio è larga vi faccio un esempio tre metri possiamo montare magari tre pannelli da larghi magari un metro all'uno e magari facci un esempio una bella serie montando tre pannelli uno a fianco dell'altro ok se abbiamo quattro metri ragazzi si monteranno quattro pannelli e così via ok magari questi tipi di superficie così ristretti non sono ovviamente ottimi per alloggiare dei pannelli da 600 watt da 580 watt 500 watt dove ovviamente la larghezza minima è un metro e 10 ok quindi ragazzi queste cose sono molto giuste da dire e bisogna fare le giuste proporzioni sulle dimensioni dei pannelli con la superficie ok la seconda cosa che bisogna fare è ovviamente guardarsi nelle ore diurne le ombre ok e soprattutto come la superficie viene raggiata dal sole questo perché ragazzi perché magari se noi andiamo alle 8 del mattino questa superficie magari non ha nessun tipo di di ombra perché magari un qualche ostacolo viene illuminato a magari verso mezzogiorno verso luna quando magari solo incomincia a modificare la sua angolazione e quindi la seconda cosa che bisogna fare è verificare durante le ore del giorno se ci sono ombre ok se ci sono superfici non irraggiate come come la superficie raggiata ragazzo è molto importante perché magari e l'inclinazione dei pannelli non è ottimale perché magari non è esposta bene la tettoia o magari il il supporto di questi pannelli quindi la cosa che bisogna fare purtroppo verificare durante le ore della giornata queste queste componenti e il raggiamento ombre e ovviamente problemi vari ma ragazzi vi faccio anche un esempio solamente un'antenna non un'antenna tv può creare problemi ai nostri pannelli anche l'antenna tv ragazzi va verificata e va calcolata l'ombreggiatura dei pannelli ok anche queste cose ragazzi nessuno ve le dice perché si ha sempre la concezione del fatto che più si montano pannelli meglio è però ragazzi inutile montare 100 kilowatt sulla superficie che viene sempre ombreggiata perché si prendono i soldi e si buttano nel cesso non serve assolutamente nulla se è una superficie purtroppo viene ombreggiata costantemente durante il giorno magari da un albero del vicino è inutile montare pannelli o neanche lo fare un impianto su una superficie del genere ok ovviamente ragazzi non vi sto chiedendo di rimanere tutto il giorno sopra il tetto a verificare queste 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 ombreggiature e ovviamente questi raggiamenti del sole o comunque come il sole il raggio a questa superficie ma potete fare una cosa molto più intelligente scaricarvi un'app in un telefono magari secondario un telefono vecchio questa si chiama alfred questa app ragazzi trasforma ogni smartphone in una videocamera di sorveglianza quindi voi potete piazzare un telefonino fuori ovviamente con questa app che è ovviamente gratuita verificare durante la giornata le ombreggiature tramite questa telecamera ovviamente voi state magari in ufficio fuori casa per questa telecamera potete verificarla anche da remoto e verificate se durante le ore di urne ci sono delle ombreggiature o problemi nella superficie ok oppure ragazzi per i più audaci potete bellissimo salire più volte al giorno io esempio siccome volevo diciamo essere sicuro al cento per cento poi io ho anche tanti alberi nel mio giardino quindi magari la telecamera non riprendeva bene certi angoli dei pannelli io salivo ragazzi 5 6 volte al giorno mi sono fatto una settimana così e mi sono visto più o meno come montare i pannelli infatti i pannelli sono ancora lì non sono mai stati ombreggiati e io sono ovviamente l'uomo più felice del mondo perché sono ormai da anni e anni e anni che sto risparmiando quindi ovviamente l'occhio umano ragazzi è sempre la videocamera migliore di tutte però capisco per chi non ha l'accesso facilitato al tetto ragazzi la soluzione è questa alfred gratuito aver installato in un qualsiasi telefono la piazzate lì magari anche con una piccola fascetta un po di scoccio giusto qualche giorno per verificare le ombreggiature e poi potete benissimo toglierla ok un telefonino classico potete anche non collegarlo al a un sistema di ricarica perché la battita interna dello smartphone funge diciamo da alimentatore e dura almeno quei due tre giorni quindi con un telefonino potete benissimo ragazzi verificare l'irraggiamento per almeno 48 bar a 36 ore dopo aver verificato il raggiamento superficie quindi ovviamente aver anche verificato il tipo di pannello da comprare ragazzi c'è il montaggio dei pannelli ok anche qua ragazzi ci sono tante confusioni tanti guru che dicono montiamo solo in serie e parallelo non serve a niente ragazzi allora prima di tutto ripeto le cose vanno dette se si sanno se non si sanno è meglio tacere ok anche qua i serie e parallelo ovviamente vanno in base alla situazione del cliente o della persona dove ovviamente verrà installata l'apparecchiatura non si possono fare previsioni sul nulla ragazzi è la cosa più sbagliata quindi serie e parallelo qual è il migliore dipende ok dipende dipende dalle condizioni ambientali e dalle situazioni del domicilio della persona vi posso dire invece qual è la configurazione che ha meno perdite ok quindi questa è una cosa che a prescindere dal montaggio è una verità assoluta la il montaggio in serie dei pannelli in serie ovviamente è il montaggio è ovviamente la configurazione dove si hanno meno perdite perché raga è ovviamente anche la più facile perché ragazzi perché ovviamente si sfrutta il voltaggio l'alto voltaggio perché la serie come nelle batterie si aumenta il voltaggio e l'amperaggio rimane uguale quindi ovviamente si hanno meno perdite per effetto joule perché qua esempio se noi abbiamo 20 volt per ogni pannello qua abbiamo 60 volt e ammettendo che qua abbiamo un ampere un ampere sarà costante per tutta la serie quindi qua abbiamo 60 volt un ampere ok se al contrario abbiamo invece un volt e 20 ampere ragazzi la situazione ovviamente cambia completamente perché abbiamo più perdite per effetto joule e ovviamente abbiamo più perdite in calore perché ovviamente la corrente il passaggio di corrente genera calore quindi genera perdite di carico ok queste perdite di carico non sono amiche dei nostri impianti fotovoltaici però ragazzi purtroppo in certe situazioni siamo costretti a fare dei paralleli perché la serie è bella non fa perdere niente tutto a posto è una gran figata ma ragazzi purtroppo se un pannello è all'ombra a causa a causa di un di un albero tutta la serie va ovviamente in off tutta la serie ragazzi muore non produce quasi nulla per colpa solamente di un pannello perché purtroppo l'interruzione di un pannello ne provoca il suo diciamo black out ok al contrario invece delle configurazioni in parallelo ragazzi dove invece se manca ovviamente l'irraggiamento a uno o due pannelli gli altri ok come nelle batterie in parallelo ragazzi continuano a emanare energia ovviamente in un modo in modo molto minore in confronto davvero tutti i pannelli ovviamente collegati però comunque sia ragazzi e abbiamo sempre continuità nella produzione ecco perché vi dico che non bisogna parlare senza sapere la situazione domiciliare del cliente perché ripeto se magari noi montiamo una serie è un pannello viene irraggiato ovviamente è inutile montare una stringa in serie si montano delle stringhe o in parallelo o in serie oppure ragazzi si montano entrambi quindi magari magari si possono fare anche delle serie e dei paralleli si possono fare benissimo ragazzi nessuno ve lo vieta si possono fare anche esempio due serie un parallelo oppure 10 paralleli una serie dipende dalle condizioni anche io ragazzi in casa mia ho due stringhe in parallelo e uno in serie perché a una certa ora e l'albero del vicino mi fa ombra su due pannelli quindi ovviamente ho dovuto sfruttare il la situazione parallela per continuare con la produzione lo stesso ragazzi vale per voi dipende da come sono le ombreggiature nella vostra superficie dovete modificare la configurazione dei vostri pannelli ok vi faccio un esempio un esempio guardate è proprio perfetto qua abbiamo un albero ok un albero qua abbiamo la vostra superficie di installazione dei pannelli ok e qua abbiamo uno due tre ok 1 2 e 3 quindi abbiamo tre pannelli e tre pannelli non vi dico come sono montati perché ovviamente li stiamo solamente montando meccanicamente cioè fisicamente ma non li stiamo collegando allora il nostro albero ragazzi irraggia questo pannello e questo pannello ok però l'irraggia magari esempio da mezzogiorno in poi ok quindi si può fare una serie completa no assolutamente no perché non si può fare una serie completa semplice perché praticamente qua dopo mezzogiorno avremo la produzione quasi parello zero quindi non serve di mattina magari abbiamo una produzione potentissima perché ovviamente la serie ci permette di non avere quasi nessuna perdita però ovviamente dopo mezzogiorno ragazzi la produzione arriva lo zero quindi esempio se noi abbiamo un irraggiamento su questo pannello su questo pannello la configurazione migliore qual è è questa collegare i pannelli che non vengono che non vengono irraggiati in serie ok quindi questi quattro pannelli ragazzi vanno collegati in serie perché perché ovviamente loro a prescindere dall'orario non sono soggetti a ombreggiatura questi due ragazzi invece io farei un bel parallelo ok farei un bel parallelo in questo modo quindi questo parallelo va per conto suo con un secondo regolatore r2 con un secondo regolatore ok che ovviamente ragazzi sia il primo regolatore quindi r1 ed r2 butteranno sempre in batteria ok questa è la configurazione migliore perché nelle ore diurne questi due pannelli ok questi due pannelli continueranno a dare energia al secondo regolatore quindi a buttare corrente in batteria quando ovviamente non produrranno più magari produce solamente il primo perché secondo non viene ancora ben ombreggiato oppure magari secondo sia il primo no comunque quando ci sono situazioni così di ombreggiatura in certe orari o in certi diciamo situazioni della giornata ragazzi il parallelo ci consente di staccare proprio fisicamente i pannelli diciamo in deficit con la serie che invece dovrà produrre energia durante tutta la giornata perché appunto non viene irraggiata ok questo ragazzi è studiare giù un impianto nel modo giusto cioè questo è un modo esatto di sfruttare al massimo diciamo quello che possono dare i pannelli perché ripeto non tutti siamo fortunati da avere delle situazioni favorevoli dove non ci sono ovviamente piante non ci sono ombre quindi sì e via andiamo subito con la serie e produciamo quello che possiamo ragazzi purtroppo non è così perché se ci sono delle ombreggiature questi pannelli ovviamente non producono ok quindi in questo caso in questo preciso caso bisogna fare uno studio energetico uno studio del cliente uno studio del domicilio e del montaggio dei pannelli ok dopo di questo ragazzi la 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 terza cosa che ovviamente bisogna fare e penso ovviamente che sia anche una delle ultime e ovviamente il montaggio dei pannelli ragazzi il montaggio dei pannelli capisco che in tanti crea delle problematiche di dubbi però e io vi prego ovviamente non dico di ascoltare a me però informatevi anche voi su come vanno realmente le cose tipo la questione dei dio di ragazzi e questi dio di che ovviamente creano disagio creano male male informazioni su di voi allora cos'è prima di tutto un dio da ragazzi un dio da è solamente una valvola di un ritorno energetica quindi un sistema che permette il passaggio energetico in un solo verso ragazzi questi dio di a cosa servono servono per non far tornare indietro eventuali e ovviamente correnti provenienti magari dalle batterie o dall'inverter molti di voi mi dicono è ma intanto non non tornerà mai indietro nulla ragazzi è come il discorso il salva vita non mi è mai servito il giorno che vi serve non ve ne accorgete perché ovviamente siete morti folgorati quindi non dovete aspettare che dio dove serva voi montatelo a prescindere io ad esempio ragazzi ce li ho in qualsiasi stringa io in tutte le stringhe in uscita a un diodo ok sia in serie sia in parallelo in parallelo ovviamente sono stato costretto a metterne uno in ogni uscita positiva perché si montano così in paralleli ragazzi in uscita di ogni pannello l'uscita positiva va montato un Diodo appunto per evitare che gli altri pannelli alimentino il pannello col voltaggio minore E anche questa cosa ragazzi molta gente non l'ha capita non lo fa e si trova magari Pannelli bruciati pannelli non funzionanti ovviamente si danno le colpe al rivenitore quando invece ragazzi non è così le colpe tutte a noi perché ovviamente L'impiantistica e l'elettrotecnica capisco che non è ovviamente la materia di tutti dio di montare ragazzi io ho i diodi che Ovviamente ho provato da anni e anni ce li ho montati Il mio impianto da quando c'è l'impianto quindi da quasi tre anni non ho mai avuto problemi Addirittura c'ho tutte le prove video del mio canale ragazzi sono dio di che invece magari tanti dicono che non servono a niente E vengono ovviamente bruciati dopo un'ora dell'utilizzo ragazzi io sicuramente Non so la situazione Energetica di questi signori ma vi posso assicurare che Ripeto ci sono i video quindi non mi sto inventando nulla I diodi che io qua linko in descrizione o che vedete sempre Nei miei video ma vi posso anche far vedere qua sono dei classici dio di cavo cavo su ragazzi funzionano perfettamente Sono convinto che chi ovviamente Ha bruciato questi dio dio chi diceva questi dio di non funzionano sicuramente ha fatto errori di valutazione magari Errori sull'acquisto perché ovviamente si va sempre risparmiare sul famoso aliexpress e magari non si comprano Diodi di alta gamma ok dio di di buona qualità e soprattutto ragazzi quando si montano i diodi con I connettori mc4 Non seguono i miei consigli sul saldare anche i dio di mc4 Come ho fatto vedere io negli altri video è meglio saldarli nella parte metallica per evitare appunto E ci siano degli sfregamenti o delle mancate connessioni Quindi ragazzi io i consigli li ho sempre dati chi li ha seguiti sono tantissimi di voi Meno male sono centinaia di persone ragazzi che hanno seguito i miei consigli non hanno mai avuto problemi Chi non li ha seguiti ragazzi ovviamente I risultati si vedono ok ci sono ovviamente tanti dio di molto migliori ci sono dio di molto peggiori Io ho montato questi e ci sono ripeto svariati anni sempre funzionato bene sempre funzionato ragazzi Con anche il parallelo quindi ad alti amperaggi non hanno mai avuto problemi va bene L'ultimo componente che ovviamente riguarda I pannelli fotovoltaici sono i sezionatori sono in magnetotermici ok perché magnetotermici ragazzi perché permettono appunto di sezionare Il lato fotovoltaico con il lato inverter ok qua ragazzi ovviamente Due sono le cose che dovete sapere ok voltaggio e amperaggio ok il voltaggio che bisogna sapere è ovviamente il voltaggio complessivo Della stringa ok quindi esempio Per un voltaggio in parallelo bisogna sapere ovviamente con una misurazione al multimetro non Non fidatevi mai di quello che c'è scritto nei pannelli verificate sempre col multimetro qual è il voltaggio comune Ok il voltaggio unico in uscita in uscita della stringa ok invece ragazzi in serie Ovviamente ancora di più questo voltaggio perché con la serie come detto prima si aumenta il voltaggio E l'amperaggio rimane lo stesso quindi ragazzi il multimetro uno in uscita Del positivo della serie unica e una ovviamente nel negativo della serie unica Verificatevi qual è il voltaggio in piena luce diurna e lì ragazzi fatevi i conti e i calcoli Del magneto termico da installare così come per la corrente ragazzi verificatevi l'amperaggio Che passerà nel magneto termico vi ricordo che l'amperaggio Ovviamente è terribile per questi sistemi perché li surriscalda li porta ovviamente a un lavoro molto più Estremo e quindi qua ragazzi sovrabbondate Con le misure se Vedete ovviamente un magneto termico da 20 ampere e nella stringa secondo i vostri calcoli per il passo 20 ragazzi Prendetelo da 40 sovrabbondate E' meglio sovrabbondate E' meglio sovrabbondare non siate giusti Capisco che magari sovrabbondare troppo potrebbe Magari ritardare l'intervento del termico però Per esperienza vi dico che questi magneto termici siccome la maggior parte Ragazzi sono cinesi Si bruciano Ok se vuoi prendete esempio se in questa stringa il passaggio di 20 ampere e vuole prendete uno da 25 ragazzi si brucia Se lo prendete da 30 anni perché dipende dalla fortuna e soprattutto dipende dalla temperatura ambientale Dove verrà installato si brucia comunque quindi ragazzi sovrabbondate Io ho fatto così io ho praticamente raddoppiato l'amperaggio io ce l'ho io per esempio nella della stringa Diciamo in parallelo quindi la stringa principale E ci passano 20 ampere io l'ho preso da 40 da 30 ragazzi mi si staccava fisso dopo da 40 non ho mai avuto problemi ok Perché come per le batterie come per le altre cose questi sezionatori cinesi Purtroppo Intervengono un po all'acqua di rose le tratture sono un po così quindi a meno che non andate su ticino su roba seria Cosa che io non ho fatto perché purtroppo anch'io sono stato preso un po in inganno dal prezzo molto basso Però purtroppo ormai c'è questo lascio questo E ho dovuto arrangiarmi con Gli amperaggi un po più alti va bene funziona comunque è già successo che intervenisse per un piccolo corto Va bene funziona però ricordatevi che quando prendete questa strumentazione un po diciamo così Superficiale con tratture superficiali sovrabbondate Con le con le con le dimensioni con le tratture Il voltaggio invece del mio magnetotermico ragazzi sono mille volte non ci arriverà mai a mille volte Però alla fine quello diciamo certo c'entra poco col campo di intervento perché vi ricordo che durante un cortocircuito Quello che ovviamente succede è una Una sovracorrente Ok questo passaggio di corrente Elevato provoca un'alta temperatura quindi questa temperatura ovviamente provoca l'intervento del magnetotermico Ecco perché si chiama termico ok Niente ragazzi io penso di avervi detto tutto questo erano le basi ripeto per poter Ovviamente montare i pannelli dove li possiamo comprare ragazzi o qua non mi esprimo Perché non vorrei fare pubblicità ovviamente A chi vende i pannelli Io vi posso dire dove li ho comprati io ma ripeto tecnomap non mi paga per dirlo io l'ho comprato da tecnomap perché Mi sono fatto due conti e ovviamente due pensieri Tecnomap ce l'ho vicino a casa ok vado e li compro costano magari 5 6 euro in più a pannello in confronto A comprarli magari nel web si è vero però Nel web c'è sempre il rischio soprattutto perché i pannelli sono fragili e come gli ho detto io negli altri video Certe volte vi possono arrivare distrutti perché Che chi monta e che assembla questi pannelli lo fa con tanta super felicità Come è successo a me con leonard merland Ovviamente non ce l'ho con leonard merland magari è capitato quel giorno ma ovviamente sfortunato Però il trasporto dei pannelli ragazzi è molto pericoloso perché appunto sono in vetro si possono spaccare I corrieri lavorano ragazzi davvero in una maniera Orribile quindi è molto probabile che vi arrivino spaccati quindi dovete fare il reso dovete fare controverse Io ragazzi ho avuto i soldi indietro da leonard merland dopo due mesi e mezzo Non voglio che questo accada anche a voi Quindi ragazzi io vi posso suggerire solamente dove li ho presi io da tecnomap ok Ovviamente anche il fatto di comprarli tanti assieme e quindi comprare un bancale unico per risparmiare ragazzi A meno che non siete tanti amici che montate nello stesso momento gli impianti fotovoltaici Anche quel caso ragazzi lasciate perdere perché sì ok magari sui gruppi potete comprarli Darne tre quattro e lì tre là ma a meno che non viviate tutti vicino anche lì ragazzi c'è la spedizione C'è il rischio ok c'è il rischio e comunque c'è sempre il discorso che vi state fidando di una persona che voi non avete mai visto Perché nei gruppi non è che ci conosciamo tutti ok quindi l'unica cosa che vi posso suggerire io è Se avete tecnomap vicino andate da tecnomap ok anche tecnomap per il resi per qualsiasi cosa ragazzi Andate lì e restituiscono subito i soldi o vi cambiano addirittura il pannello Ma la cosa più importante ragazzi anche da tecnomap quando andate da merlè insomma per quando li vedete voi per la prima volta Verificate se i pannelli non hanno danni non hanno graffi non hanno celle montate male a me Vi ho fatto vedere anche nei video ragazzi mi è capitato Una volta di vedere un pannello con la cella un po montata male mi è stato sostituito subito Perché ero lì in loco ho visto effettivamente il pannello com'era invece ragazzi quando vi arrivano a casa una volta arrivati Ovviamente a meno che voi non dovete fare controversi è una cosa e l'altra E' sempre un problema restituire questi prodotti quindi è meglio vederli di persona verificatevi la celle verificatevi il vetro verificatevi le connessioni Ragazzi portatevi un multimetro appresso e verificate se c'è almeno il voltaggio in questi pannelli Ok almeno il voltaggio Poi ovviamente ragazzi la prova definitiva è il montaggio in casa vostra è ovviamente la prova in campo Chiudi alla prova in campo ragazzi come dico anche sempre per le batterie Non c'è paragone la prova in campo è sempre la prova definitiva ok però comunque già visivamente Se potete visualizzare di persona i pannelli verificare le condizioni ragazzi è sempre meglio va bene Io penso di non dovervi dire altro ragazzi non voglio fare questo video lunghissimo ci serve tanto da dire come ovviamente I cavi e le loro dimensioni come montare i cavi come montare gli MC4 poi ragazzi queste cose le ho già ripetute in tanti video A me oggi mi interessava solamente l'argomento dei pannelli quindi il video sia di aiuto ovviamente a chi ha tanti dubbi A chi ovviamente li ha già comprati spero che il luogo di montaggio sia idoneo per i pannelli comprati Quindi è niente ragazzi se avete domande potete scrivermi sia qua sui commenti oppure sul canale telegram dedicato solamente a chi è iscritto al canale Così come il canale facebook va bene che lascio tutti qua il link in descrizione E come al solito ragazzi vi ricordo l'iscrizione al canale cortesemente aiutatemi a crescere perché come vedete io faccio video che interessano a tutti Ciao ragazzi e buona giornata